ciao ragazzi buongiorno bentornati sul nostro canale italian family overland video un po particolare ragazzi un po particolare video che molto probabilmente renderà d'accordo moltissima gente ma moltissima gente altrettanta gente non sarà d'accordo video che mi farà acquisire diciamo molta più consapevolezza per quanto riguarda i nostri follower e video che molto ovviamente ci farà perdere dei follower ma come abbiamo sempre detto sinceramente non me ne frega un cazzo non ce ne frega un cazzo perché perché da quando abbiamo deciso di allontanarci da quella che è l'algoritmo da quelle che sono i ritmi di youtube sostanzialmente siamo andati a vivere meglio abbiamo comunque aperto il nostro canale ad argomenti che solitamente prima non potevamo trattare perché sennò ci avrebbero censurato oggi invece possiamo trattare senza problemi ho fatto questo video al volo anzi vorrei fare questo video al volo proprio perché per farvi capire a quelli che magari ancora non l'hanno capito quelli che magari si prendono per il culo si guardano la mattina allo specchio e si prendono per il culo che quello che sta accadendo è veramente assurdo ed è secondo me un po rispecchia quella che è la società moderna la società che nasconde la società che mente la società che sostanzialmente oggi come oggi va avanti a bugie e e a trattati accordi e via dicendo allora voluto fare questo video anzi sto facendo questo video anzi ora mi sa che mi siedo mi metto comodo perché vi devo spiegare alcune cose allora questo video è venuto in mente al volo così d'amblè da circa due o tre giorni perché questo allora leggo sempre più spesso negli ultimi giorni ovviamente ragazzi le vacanze sono finite le vacanze sono finite la gente sta ricominciando alla propria routine ricomincia l'anno perché inutile che mi rompete i coglioni dicendo che l'anno comincia il primo gennaio no perdonatemi ma il giro di boa e le vacanze estive agosto a meno per quanto riguarda noi italiani ad agosto si è in vacanza quando si rientra settembre l'anno sostanzialmente ricomincia per quanto riguarda noi allora la gente ricomincia a lavorare si riaprono le scuole e robe varie ultimamente l'ultima settimana ovviamente è finita l'emergenza caldo perché comunque vada un'emergenza se la dovevano inventare finita l'emergenza caldo ricomincia di nuovo si ricomincia di nuovo a parlare del covid si ricomincia a parlare di virus e di cinebasto poi questo voglio essere pronto anzi tra poco arriverà un video molto interessante sul cinebasto perché adesso tira più un litro di gasolio per il cinebasto che un pelo di figa giusto per farvi capire quindi si tornerà a parlare di cinebasto e attualmente si è già ricominciato a parlare di covid e robe varie io leggo di quelle cose allucinanti ma veramente delle cose allucinanti che a me non stanno bene come non stanno bene a me non stanno bene a milioni di persone nel mondo allora a parte che leggo di gente che sono entrato su un gruppo non su un gruppo su un forum di lendo roveristi perché mi hanno appunto avvisato che stavano parlando di questa cosa perché ormai ovviamente l'argomento del momento è covid e parlavano vedo che gente che esordisce scrivendo ragazzi io sono alla terza voi come siete messi la farete questa quarta oppure no cioè siamo a questi livelli qua di gente che volutamente ha scelto di farsi un primo siero un secondo un terzo siero e adesso sta valutando se farsi il quarto ma sicuramente se ne fate tre te ne sparerà anche una quarta e fin lì mi può anche star bene quello che invece leggo perché poi ovviamente poi sono partiti a scrivere e lì si parte poi con la diatriba e robe varie perché poi si divide in tre categorie sostanzialmente quello che è accaduto dal 2020 ad oggi e quello che continuerà a accadere perché sostanzialmente di persone ce ne sono tre al mondo c'è la persona che vive nella stupidità però è convinta di far bene quindi al suo pensiero c'è la persona stupida c'è la persona stupida che è quella sostanzialmente che sa di sbagliare però è così stupida da non riconoscerlo o se lo riconosce o mette e poi dopo c'è la persona sana di mente che pensa con la propria testa e qualsiasi sia la decisione positiva o negativa che sia comunque vada prende una decisione stop valutando poi i rischi i pro e i contro allora ragazzi qui abbiamo la prima categoria che è quella che ha deciso di fare diciamo da tester per quanto riguarda le inoculazioni di vari marchi ci sono diverse aziende che comunque vada producono dei farmaci dovevano testarli quindi hanno visto bene che mentre una volta si pagavano perché mi ricordo che quando io avevo 18-19 anni avevamo diversi amici in compagnia che andavano in Svizzera interna, Svizzera tedesca a farsi inoculare dei prodotti delle farmaceutiche svizzere che pagavano cioè i miei amici andavano su due settimane e tornavano a casa con 10.000 franchi e uno dice vabbè sì è vero ti facevi inoculare la merda non sapevi l'esito perché comunque vada firmavano prima di entrare in clinica che le responsabilità la farmaceutica non ce l'aveva però se andava bene ti pagavano tornavano a casa con i soldoni e poi vabbè se risparavano in marijuana e via dicendo oggi no, oggi hanno trovato le scamotage per sostanzialmente testare i propri prodotti farmaceutici sulle persone gratuitamente anzi far sì che le persone volutamente facciano la coda fuori dagli hub per farsi inoculare non si sa che cosa i test sono andati avanti quindi nell'arco di questi due barra tre anni ne hanno fatti di corte di crude però c'è gente che è convinta di fare bene ed è giusto che lo faccia quelle persone lì io non dico che le ammiro perché ammirare una persona che si fa inoculare non si sa che cosa anche no, però sostanzialmente rispetto alla loro decisione loro sono convinti di fare bene lo hanno fatto pace all'anima loro poi ci sono le categorie quelle come noi, come me, Moira come moltissime persone nel mondo che hanno deciso di non fare da test perché ci tengo il mio corpo, ci tengo la mia salute sto bene fisicamente e quindi ho deciso di non fare nulla e poi c'è la categoria peggiore e qui ragazzi vi ripeto con questo video ci sarà molta gente che mi darà ragione e molta gente che ci seguirà comincerà a seguirci e molta gente che smetterà di seguirci però mi spiace è un problema vostro non mio la terza categoria ragazzi secondo me è la peggiore io leggo commenti di gente che dice noi, io e mio marito siamo stati obbligati io sono stato obbligato io sono stato obbligato io sono stato obbligato a un certo punto uno dice immaginate veramente tra 50 anni quando non so noi esseri umani se ci saremo ancora se non ci saremo che ci sarà un'altra forma di vita che legge i commenti che abbiamo scritto noi oggi e legge siamo stati obbligati a un certo punto penso che il ragazzino del futuro che legge dice papà papà ma questi sono stati obbligati ma fammi capire perché io ho letto la storia degli esseri umani c'è stato un periodo buio cioè la prima la seconda guerra mondiale dove la gente veniva obbligata a fare un qualcosa veniva minacciata con fucili frustate quello che è ma fammi capire durante l'era della guerra covid perché sostanzialmente è una guerra ragazzi ma sono stati obbligati anche questi qui e il padre è un po' intelligente dice obbligati non è che sono stati obbligati diciamo che gli è stato detto che se non si vaccinavano non potevano andare al ristorante gli è stato detto che se non si vaccinavano non potevano andare in campeggio gli è stato detto che se non si vaccinavano non potevano andare non so in discoteca quel cazzo che è e allora a un certo punto il bambino che è un po' intelligente dice scusa ma questo non è un obbligo comunque vada e ti hanno lasciato una scelta cioè potevi fare a meno di fare queste cose però oggi come oggi vedo queste persone che è un po' come se si volessero difendere perché allora hanno capito che hanno fatto una minchiata cioè quando tu capisci che hai fatto una minchiata una persona onesta più che altro con se stessa dice ho fatto una minchiata c'è poco da fare cerco di riparare la minchiata che ho fatto no questa gente è peggio perché questa gente capisce di aver fatto una minchiata si vergogna di aver fatto una minchiata però non ha l'onestà non tanto nei confronti degli altri perché degli altri non te ne deve fregare un cazzo ma l'onestà personale di guardarti allo specchio e di dire fai schifo hai sbagliato e non ti vergognare dirgli ho fatto una cazzata no cercano scuse del tipo mi hanno obbligata poi tu vai a indagare a scoprire il perché mi hanno obbligata e no sai perché se no non potevo andare a lavorare no aspetta un attimo allora non usare questa scusa del sono stato obbligato sono stato obbligata non potevo andare a lavorare non è vero perché ci sono milioni di italiani che hanno deciso di non fare da cavie e comunque vada sono andate a lavorare e lì anche dove lì anche dove il dottore di lavoro illegalmente gli abbia detto o ti innocui o ti fai iniettare qualcosa o non puoi venire a lavorare comunque vada un escamotage un escamotage legale o illegale per non andare a lavorare lo hanno trovato e farsi pagare attenzione perché poi c'è gente io conosco gente che in un modo o nell'altro non è andata a lavorare ed è stata comunque pagata tutti i mesi quindi non venite a dirmi che siete stati obbligati non è giusto non è corretto nei confronti di voi stessi ma non è corretto nei confronti degli altri perché quando voi andate magari a parlare con una persona che non è italiana come succede a noi perché ovviamente quando andiamo a parlare con persone di altri paesi e spieghiamo la situazione che è nel modo in cui hanno gestito la guerra covid nel nostro paese e come l'hanno gestito nel loro questa gente di altri paesi resta all'invita perché dice da noi non sono mai stati obbligati e voglio spiegare che anche da noi non sono stati obbligati da noi hanno fatto semplicemente una scelta molto più semplice aspetta attenzione perché la Shura Moira mi porta il coffee quindi capite che queste persone qui quando vengono a scoprire il modo in cui sono state gestite in Italia resta all'invita ecco il video si incentra sostanzialmente su questa cosa qua su quella categoria io li chiamo non so i dannati chiamiamoli così perché sono persone che non hanno scelto volutamente di farsi inoculare un prodotto chimico e quindi di conseguenza sono dannati sono dannati perché non avrebbero voluto farlo però per poter andare ripeto al ristorante per poter andare in discoteca per poter andare non so mi ricordo il primo anno che addirittura i campeggi ti dicevano se non hai il green pass il passaporto quello di guerra non ti posso fare entrare molte persone hanno deciso di non andare in quei campeggi altre invece per ottenere il famoso green pass o lo hanno comprato perché comunque si poteva comprare oppure hanno deciso la strada più facile era quella di fare da cavie perché costava comprarlo mi ricordo che giravano mail dove con 350-400 euro a testa ti compravi il green pass ci sono persone che potevano permetterselo l'hanno fatto secondo me sbagliando perché comunque vada comprare un qualcosa che è sbagliato è sbagliato a priori quindi il pensiero il gesto comunque vada è assolutamente sbagliato queste persone che magari non avevano denaro per comprarli o non volevano piuttosto che combatterli in un modo o nell'altro o trovare nel scamotaggio più difficile perché comunque vada ragazzi le persone che non si sono fatte inoculare prodotti chimici le persone che non hanno abbassato la testa come io sostengo hanno fatto dei sacrifici enormi ragazzi per un anno due anni loro e le loro famiglie quindi comunque vada era stata molto più difficile contrastare questa furbata o questa questa vigliaccata del green pass però l'hanno fatto e invece moltissime persone hanno scelto la strada più facile cioè quella di farsi inoculare un prodotto chimico stop l'hai voluto fare paciame però non far passare il messaggio che sei stato obbligato no mi spiace io ne leggo ancora sono passati tre anni ragazzi dalla guerra sono passati tre anni e oggi c'è ancora gente che tenta di difendersi pubblicamente dicendo mi hanno obbligato non ti hanno obbligato mi spiace lì anche dove ti avessero obbligato ufficialmente presenti i documenti li denunci perché comunque vada per legge non sei non eri e non sarai obbligato a fare da cavia perché sostanzialmente questo è stato un fare da cavia perché molta gente ancora oggi non capisce non so se è ingenuamente o perché non vuole capire ma perché lo Stato non ha obbligato le persone no non le ha obbligate perché non poteva obbligarle lo Stato ti obbliga quando può sostanzialmente pagarne le conseguenze in caso di problemi quindi lo Stato ti obbliga perché ti garantisce lo Stato ai tempi come ancora oggi non può garantirti che questi prodotti chimici che ti iniettano nel corpo non ti causano dei problemi e quindi cosa ha fatto lo Stato si è salvaguardato e ogni volta che ogni persona andava in un hub per farsi inoculare per fare da cavia gli faceva addirittura firmare uno scarico di responsabilità cosa che avete fatto tutti quanti quelli che hanno deciso di fare da cavia cosa che hanno fatto anche negli altri paesi perché parlando con degli amici qua che sostanzialmente anche loro qui alcuni hanno deciso di fare da cavia alcuni no con la differenza che quelli del no non hanno avuto delle restrizioni e anche quelli che qui hanno deciso hanno funghi firmato un documento che scarica lo Stato in questo caso non so spagnolo francese danese quello che sia delle responsabilità in caso di problemi e quindi questo per farvi capire che se una cosa non è dannosa per voi lo Stato comunque vada ve la fa fare senza problemi in alcuni casi vi obbliga perché comunque vada a obbligarti a non superare i 130 km all'ora in autostrada lo fanno perché? perché loro ti garantiscono che se non superi quella velocità comunque vada è molto più sicuro che superarti stop ti garantiscono quindi ti possono dare un obbligo in questo caso l'obbligo non c'è stato perché non possono garantire ora però vi ritrovate dico vi perché io sono della terza della terza squadra chiamiamola così ora però vi ritrovate con un sacco di gente con problemi leggo notizie di ragazzi sotto i 15 anni che hanno problemi cardiovascolatori aumentati del 45-50% ragazzi adesso sono cazzi ma sono cazzi per chi? per chi? per quelle persone che hanno deciso volontariamente e parlo delle altre due categorie perché comunque vada anche chi dice che oggi è stato obbligato no hai fatto una scelta la più semplice ma l'hai fatta hai fatto la scelta per te e i tuoi figli ora io penso il minimo che tu puoi fare è tutte le mattine quando vedi tuo figlio alzarsi la mattina dovresti fare il segno della croce perché ci sono moltissime famiglie oggi che sono scese giustamente in piazza non so per quale per quale motivo perché comunque vada non servira a nulla però hanno deciso di farlo fatelo ci sono moltissime famiglie oggi che scendono in piazza perché i figli purtroppo non li hanno più problemi fisici dovuti ovviamente a un prodotto che gli hanno iniettato che a molta gente non ha fatto niente tanto di cappello ma molta altra gente ha dato dei problemi se non addirittura la morte quindi quando state rispondendo a un qualcuno mi raccomando siate onesti con voi stessi se avete deciso volontariamente di farlo perché avete paura perché avete rispetto perché 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 fatelo senza problemi io vi rispetto perché comunque vada avete preso una scelta giusto o sberta che sia la categoria di mezzo no ragazzi mi spiace io veramente non riesco a capire il perché date false informazioni non vi ha obbligato nessuno lo avete scelto voi volontariamente e dopo tre anni siete ancora qui a parlarne se continuare oppure no sono affari vostri però almeno non dite minchiate non raccontatevi minchiate e non raccontate minchiate agli altri è una vostra scelta punto era un video un attimo così al volo mi stavo prendendo il caffè c'era una giornata di solo ho detto ne approfitto così almeno diamo un po' di informazioni restate connessi perché si parlerà di cinebasto nelle prossime settimane e di riscaldamenti una roba una roba veramente molto interessante grazie di aver seguito quest'altro video e spero che il video apra la mente a un po' di persone se non ve la apre sono cazzi vostri io ho fatto la mia scelta continuo a fare la mia scelta e oggi non me ne pento assolutamente un abbraccio di cuore da Frank ci vediamo al prossimo video ciao